Fiamme nella notte in via Cimabue, nella quartiere Giotto ad Arezzo, dove pochi minuti dopo le tre è divampato un incendio. Il ruogo sarebbe partito da un congelatore che si trovava sulla terrazza di un appartamento al secondo piano di un condominio. A chiarire con certezza le cause dell'incendio saranno i successivi controlli. A lanciare l'allarme questa notte a alcuni residenti, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato le peggiori conseguenze. Io ho sentito che loro correvano in sopra di me e pensavano che non sapevano se il fuoco. Dopo sono venuti giù da me per chiamare il vigile e mi hanno detto che ha preso il fuoco la loro casa. I lini, proprio in cielo di porto. Non ci sono stati infatti danni strutturali, gli inquilini sono stati comunque fatti evacuare per ragioni igienico-sanitarie, visto il fumo nero dato dalle plastiche bruciate e che si è sprigionato nel ruogo. Ma ho una paura, fino alle 5. I miei bambini le mandate dal mio cognato. La famiglia che abita nell'appartamento interessato dall'incendio non è rimasta né intossicata né ossionata. Ovviamente grande è stato l'allarme tra i residenti che sono scesi strada al gelo per lo spavento. Ha un freddo, per ora con la papà ha un freddo tremendo. Ce la tremavo ancora, con la paura, il freddo, tutto il ghiaccio, meno 7. I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti con due mezzi e sei unità per spegnere le fiamme e bonificare l'aria. Il ruogo ha interessato unicamente la zona della palazzina che si trova nei pressi del terrazzo, oltre al balcone dove si trovava l'elettrodomestico. Annerita ancora questa mattina parte della facciata. Ha preso fuoco.